Musica Però ce l'hai due le tre carte, daccelo bu- Musica Io devo imparare a sto mizzi Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Pixel e oggi siamo qui insieme a Cronius Ciao Ovvero Christian E anche oggi sfrutteremo il Uplay Pass Plus Infatti siamo ancora a settembre e visto che ce l'abbiamo ancora lo stiamo sfruttando per provare un bel po' di giochi Oggi ho deciso di portarvi un gioco che ha segnato penso l'infanzia di entrambi e anche di moltissimi di voi Io tuttora ci gioco ogni tanto quando siamo in viaggio E quindi oggi giocheremo a uno Visto che però io sono di Bologna e lui è di Messina Quindi siamo letteralmente ai proprio posti dell'Italia E lo giocheremo online E' un po' triste giocare ai giochi di carta online Però c'è da dire che è fatto molto bene questo gioco E' fatto benino, molto molto benino Detto questo, via con la sigla Ok, siamo dentro la partita E l'ha fatta partire Christian Perché così io potevo evitare di pistolare con tutte le varie robe E adesso abbiamo due bot E noi siamo appunto Xcrobs Che è Christian E Pixelpox Che sono io Allora, vabbè Io credo che conosciate tutti le regole di uno Però in caso Dico si capisce, no? Sì, sì C'è gente poco simpatica che mi mette i più due Ma io fumo Sì, sì Così si ripide quell'altro No, cazzo Ho sbagliato Avevo un'altra carta più bella Non esageriamo Sì No, non cominciamo con questi set Allora, se qualcuno tira il set Può scegliere di cambiare mazzo E dipendersene uno con meno carte, ovviamente Quindi è una cosa molto bella questa Specie per le bestie Questo qua Vecito questo più 4 Adorabile Io ho la teoria comunque, ragazzi Che i bot sappiano che carte abbiamo in mano Perché stiamo notando che ci sono cambi di scarte un po' scrausi Christian, hai un po' rotto i coglioni Senti, te lo meriti 13 carte Benissimo Tra un po' mi faccio la mia rivalza No, non lo farai Ti sei fregato Perché? Abbiamo un set E io ora do a Christian tutte le bellissime carte che mi ha fatto prendere No, che palle Vabbè, no, io Ora pure bloccato Tenti le tue carte Sì, sì Aspetta Aspetta La mia vendetta Non essere vendicativo Sì, invece Quante carte Quanto ne sta Cazzo, questo Bravo, bravo Aia, sono fregato Vabbè, mi sono fregato da solo Ma sono obbligato a fare quello lì Eh, la stessa cosa No, se tiri lo zero In base alla rotazione Ti cambiano le carte In base al turno Come si dice E le fa cambiare a tutti Sì Ecco Io questa cosa del set Te lo dico Prima o poi la toglierò Sei te che imposti le regole Della inizio partita Puoi scegliere cosa metterci No, ma la toglierò prima o poi Sappilo Eh, vabbè Sì, ma sono l'unico che c'ha un sacco di No Ah sì Ok No, no, no Non l'avevo visto Ho detto Ecco, adesso iniziamo a raccogliere le carte Come se non ci fossero domani Perché Ciapa no Ciapa è in dialetto Vuol dire prendi Scusate, ogni tanto mi scappa Piglo In dialetto messinese Oh, sto qua c'ha Cazzo No, 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 no Fanno vinti No Porca Ok, facciamo un'altra partita Perché vogliamo la rivalsa contro i bot del cavolo Allora, io comincio già bene con un più quattro Quindi Verde Perché non ti ha dato Aspetta No No Più otto a chi esattamente Altizio Ok, va bene No Grazie Oh, non è che sei messo bene, eh Sì, ho capito Ma avevo due Ecco Perfetto, lo meriti È quello che ti spetta Tutti adesso a fregarsi il mazzo Uno con gli altri Ma perché ha fatto lo scambio Se ne aveva già Vabbè, non capisco Sono intelligenti Molto Io ti do un'altra Altre due carte Perché secondo me 18 è il numero perfetto Ok Ancora meglio Così almeno non vincono Esatto No, non va bene questa cosa Perfetto Minchia, al primo colpo Ma sai Che Quale carte mi prendo Ovviamente queste Ok Allora anch'io faccio così E sai quali carte mi prendo? Queste Devo stare Devo mantenere la calma Per il family friendly Oddio ma Astrea ha due Ti prego Fa che resti Che ci resti No, 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 no Sono imbattibili Sti bot Non se ci arrivano La domanda è Quando ci arrivano Senti Farò questa cosa Ok Prendi quelle degli astro Bravo Ecco Non giocare contro di me Però ce l'hai due le tre carte Da ce l'ho Io devo imparare A sto Deve restare a uno Astro No Io cowboy Lo giuro Doveva prenderne il far west Sì In montana Con far cry Sì 6 a 2 Christian Ti prego Botte di merda Che sa le mie carte Che colore sei? Rosso Rosso Non ce l'ho Non ce l'ho Però posso fare il hack Se no ti davo un più due Dai Rosso Non me lo metterà mai il rosso Perché lo sa che mi serve il rosso Sì ma non è giusta questa cosa comunque 45 minuti No 46 minuti in questo momento Bene Direi che questo video si può concludere qua Se il video ti è piaciuto Ricordati di lasciare un bel like E di commentare Ricordati inoltre di iscriverti al canale E di attivare la campanella Così non perdere nessuno dei nuovi video Ti ricordo inoltre che Questa in descrizione Trovi il link per il mio profilo Instagram e Facebook Inoltre lascerò anche il link Per il canale di Christian Detto questo Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao Ciao Ciao